grazie grazie a tutti i 400 iscritti al mio canale stiamo diventando tantissimi grazie anche a quelli naturalmente che si stanno iscrivendo in questo momento a quelli che si stanno iscrivendo in questo momento quelli clicca siamo sempre di più e pensate che siamo poco meno della vita degli abitanti del vaticano che vanta una popolazione di 836 abitanti 64 in meno di murello un paesino nel piemonte ma direi che il numero giusto per iniziare a crearci una nostra religione così da avere tutti i benefit del caso ma sicuramente saremo visti con una connotazione negativa che è quella che corrisponde al termine setta che cos'è una setta la setta è un insieme di persone che si riuniscono secondo una dottrina in questo caso religiosa con una propria divinità come la religione i fatti di differenze in ambito di termine non esistono la differenza tra una setta e la religione è la secolarizzazione o il riconoscimento istituzionale ma oggi come oggi non c'è spazio per le nuove religioni ecco oggi come oggi chi ci crederebbe poi il fatto che ci ha una lira senza sordi la religione non è che va tanto ma facciamo finta per un attimo azzeriamo tutto mettiamo che oggi io venissi da voi ma lo sai che ha creato il mondo il mondo tutto quanto l'ha creato l'onnipotente dio Giancarlo lui ha creato tutto ci ha creato pure a noi pensa ci ha creato a sua immagine e somiglianza poi purtroppo noi essendo comunque abbezzi alla cattiviera abbiamo trasgredito un suo ordine perché lui ci aveva ordinato espressamente di non mangiare dei fagioli non mangia fagioli poi purtroppo noi abbiamo cominciato a mangiare fagioli e lui ci ha dovuto cacciata quel posto perfetto che aveva creato per noi anche perché non si respirava più tutti a mangiare fagioli sai che puzza e niente però sto dio dio Giancarlo è un dio d'amore comunque lui ci vuole bene diciamo che per entrare nelle sue grazie basta che lo preghiamo e che lo adoriamo che lui ce ne ha tanto bisogno poi per fortuna e dico per fortuna un po' di tempo fa dio Giancarlo ha messo incinta una giovane vergine no e proprio perché così lui si è trasferito nel suo utero per rinascere come umano facendosi poi chiamare goffredo ma perché ha fatto l'ha fatto perché così noi potevamo ucciderlo nella sua forma umana così che lui ci potesse salvata dal peccato dal peccato che noi avevamo commesso e a cui lui ci aveva condannato ecco se non stavamo tutti nella dannazione eterna te vuole venire la religione del dio Giancarlo ecco una persona normale in questo caso mi chiederebbe scusa ma ma le prove che su dio Giancarlo c'è esiste do sta chi ha mai visto come do sta sta scritto sul libro il sacro diario del dio Giancarlo pensa che tre mila anni fa proprio ci sono delle persone che hanno scritto suo libro dei profeti che hanno scritto sto libro proprio ispirati da lui ecco dio in realtà non è che sappiamo proprio chi l'ha scritto sto libro che poi sono un insieme dei libri che noi abbiamo ritenuto siano ispirati da lui che poi in realtà non è che sono gli originali ecco noi in realtà possediamo delle copie che sono delle copie di delle copie delle copie delle copie che perché perché poi in realtà sono libri antichi comunque gli amanuense a quel tempo riscrivevano 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 comunque cercando di mantenersi più fedeli possibili all'originale all'originale che non che non esiste scusa ma ma le prove che sto dio Giancarlo c'è esiste la certezza ma come prove ma che però che sono buoni tutti le devi fidà a fiducia la prima cosa in un rapporto è la base scusa se te non te figli della persona non è che ci stringi l'amicizia ci fai nasce qualcosa no te devi fidà te devi fidà del dio Giancarlo scusa ma ma se non c'ho le prove che sto Dio Giancarlo esiste esattamente di chi è che me devo fidà ma di noi di noi che te raccontiamo con certezza che Dio Giancarlo esiste ecco questa è la religione un insieme di persone che si fida di determinati guru che raccontano cose rappresentando una divinità perché in effetti nessuno crede in Dio nessuno crede in Dio la gente crede a quel qualcuno che racconta cose su Dio che racconta cose su un libro che dice di parlare di Dio la gente non crede in Dio crede nell'idea di Dio che qualcuno gli ha trasmesso di fatto non esiste nessuna differenza ad esempio tra il cattolicesimo e i pastafariani quella buffa religione inventata da quello studente con la dottrina di credere nel dio spaghetto non c'è alcuna differenza ecco voi potreste di magari come non c'è differenza ma quello qua religione l'ha inventata apposta è una burla sanno benissimo che non esiste nessun dio spaghetto ecco pure quell'altro lo sanno benissimo io vi ringrazio continuate a seguirmi lasciatemi un like un commento se avete che ne so anche un argomento da proporre per i prossimi video cliccate sulla campanella se volete rimanere aggiornati e non mi resta che salutarvi e benedirvi nel nome di Giancarlo oi Giancarlo eh no niente c'è creduto nessuno che ti devo dire tocca continua a pagare tasse